e benvenuti nel mio canale di tutorial oggi parleremo del social plugin facebook che ti permette di incorporare la tua pagina facebook dentro il tuo sito web come noti molti siti web specialmente nel settore turistico dove io lavoro hanno la classica pagina dentro il sito cioè praticamente incorporano la pagina facebook dentro il proprio sito web invece del classico segui, mi piace, condividi ora vi farò vedere cosa intendo e facciamo questo esempio qua allora intanto dobbiamo andare sulla pagina di facebook developersfacebook.com poi sotto ai commenti vi lascio la pagina e dobbiamo scegliere questa sezione plugin di incorporazione di pagine e praticamente qua spiega cos'è questo plugin ci sono vari tipi di plugin io ho già fatto un tutorial su altri tipi di plugin facebook da incorporare nel sito se poi tu sei interessato sulla destra del video praticamente dove c'è la i clicchi e lì ci sono gli altri tutorial che parlano dei social plugin allora stavo dicendo praticamente qui è molto semplice perché praticamente devi mettere qui dove c'è la url pagina di facebook devi mettere la pagina tua di facebook in questo caso io ho incorporato questa pagina qua ho preso la url della pagina facebook l'ho inserita qui possiamo scegliere il tipo di tab io ho messo la timeline qui possiamo scegliere una larghezza un'altezza sta a voi decidere poi possiamo scegliere se diminuire il titolo della pagina cioè l'intestazione della pagina questa parte qua vedete se io la clicco diventa più piccola possiamo nascondere l'immagine di copertina possiamo adattarla alla larghezza del contenuto del plugin cioè in modalità responsive e poi possiamo scegliere di mostrare o non mostrare i volti delle persone che ci seguono infatti se io clicco ci sono tutte le persone che praticamente seguono la pagina del Bed and Breakfast l'isola di Gaia ok fatto questo dobbiamo cliccare ottieni il codice prima di fare questo qui sotto ci sono degli esempivi di che cosa sono i vari codici il light, il tabs, il light cover e qua spiega praticamente cosa fa questa sezione di tag allora stiamo dicendo ottieni il codice attenzione qui come vedete praticamente qua dice questa applicazione in modalità di sviluppo perché? perché questa modalità sdk javascript e lo potete usare soltanto se voi avete fatto un'app su facebook voi naturalmente non l'avrete sicuramente fatta perché non sapete come si fa se vi interessa io vi posso fare un tutorial su questo argomento basta che mi commentate sotto e io in base ai commenti poi decido di creare questo tutorial stavo dicendo praticamente dato che voi non avete la possibilità di usare il sdk perché non avete sviluppato l'applicazione dovete usare la modalità iframe cliccate qua attenzione praticamente stavo dicendo clicchiamo le frame facciamo copia e lo mettiamo nel nostro sito web praticamente vi apparirà in questo modo ora naturalmente questa è fatta per praticamente essere adattata al classico tipo sito blog di wordpress sul widget sul widget nella sezione destra del vostro blog naturalmente si può ingrandire diminuire come volete voi si può in questo caso agire sul codice vi dico subito quale parte andare a vedere ecco potete fare il width light larghezza e lunghezza potete praticamente diminuire aumentare diminuire di quanto lo volete e poi provate a vedere come viene per esempio facciamo 500x500 salviamo aggiorniamo aggiorniamo la pagina ecco che praticamente è cambiato nelle larghezze se voi non volete strumentalizzare il codice lo potete tranquillamente fare anche da qua prima di editare la cosa basta che qui mettete 500x500 ecco come apparirà la vostra la vostra probabilmente incorporazione della pagina con questo tutorial è tutto spero vi sia stato utile se ti è piaciuto metti piace e iscriviti al canale se non sei iscritto ciao al prossimo tutorial ciao a tutti